siamo sopra il monte avena guardate che meraviglia questa è una maglia che adesso è chiusa guardate che neve meravigliosa e qui si profonda da tornare indietro temperatura è alta volevo rimuovere una meraviglia una meraviglia unica torniamo indietro vedete la maglia guardate che non sopra Grazie a tutti. Stupendo. Sempre la malga. Sto camminando in mezzo alla neve. Guardate che spettacolo. Guardate che meraviglia. Siete i signori che vi ho trovato prima? Sì. Bravi. 1.454 qui mi ha detto i signori 1.454 come San Martino di Castrossa più o meno dai 1.450 vedete che meraviglia il punto più alto è questo? E' già stato bello bella giornata è un bel allenamento. Stupendo veramente. Questo è il punto più alto che ho tirato giù prima. Bello bello dai. Qui chiudo. Adesso devo concentrarmi e andare giù. Guardate che spettacolo. Guardate che cielo azzurro. guardate che spettacolo. unico. troppo bello. troppo bello sempre dal monte avena guardate che meraviglia. uno spettacolo unico qui. guardate che spettacolo unico. forse. Grazie a tutti. Troppo bello. Fare i piqueniques d'estate, che meraviglia. Stupendo, non ho parole, una meraviglia. Guardate che meraviglia. Buona passeggiata. Grazie. Guardate che bello. E beh qua veniamo spesso, per volentieri. Ah, bello, bello. C'è anche poca neve se riesci a venire su. Perché se fosse tanta neve qui non ci riesci mica a venire. Sì, che si viene. Sì, lo stesso. Via, ciaspe, ora, pocini. Ah, ecco quelle robe lì. Ma no, come subito su io. Solo con queste qui. No, ma... Sì, ci vuole attrezzatura apposta. Se va verso la Malga. Adesso vado verso la Malga io. Eh, le conviene perché viene ancora meglio la foto. Stupendo, grazie a lei. Conosce la zona. Sì, sì, sì. Guardate che meraviglia. Speciale, qui, vedi. Siano. È davvero speciale. Qua siamo alla Malga. Maglia Comunale Campet. Comune di Pedavena. Vedete? Siamo a 1413 metri. Comunale Campette. Vedete che spettacolo. C'è una terrazza qui. Sulla terrazza si vede tutto. Ho trovato i signori. È chiusa, vero? Eh, vedete questa là, la Malga. Sabato e domenica. Ah, aprono sabato e domenica. Sì, c'è gente qui che si vede. Eh. Siamo sulla terrazza della Malga. Campette. Campette. Sì. E qui guardate che... Guardate che panorama fantastico. è stupendo. C'è due signori qui che mi ha aiutato parecchio. Guardate, guardate. È una meraviglia. È davvero stupendo. Per fare una foto che ho la possibilità. spettacolo. Allora. Allora. Sì. 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 grazie mille guardate la maglia vediamo un contasole vedete e qui si mangia vedete e poi mettono in estate anche fuori i tavolini tutto è una meraviglia qui vedete che siano i ragazzi qua vedete vedete come ono giù che spettacolo stupendo 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 stupendo